buongiorno e bentornati sul mio canale oggi vi faccio un tutorial un po diverso nel senso che vi faccio vedere un punto molto semplice che non ha multipli l'importante è avviare un numero di catenelle pari ed è un punto adatto per copertine anche per tappeti per cuscini ma anche per un gilet per un cardigan per un maglioncino per molti progettini però si lavora a pannello non si può lavare lavorare in tondo adesso ve lo faccio vedere su un campione perché come ripeto non avendo multipli quindi se volete realizzare un gilet o comunque un cardigan dovrete avviare le catenelle che vi servono per arrivare alla vostra misura quindi adesso su un campioncino ve lo faccio vedere avviando 10 catenelle io ho fatto un 20 catenelle e io l'ho chiamato questo punto tessuto allora noi che cosa dobbiamo fare facciamo una catenella aggiuntiva rientriamo maglia bassa più una catenella poi saltiamo un punto di base nel successivo facciamo il punto basso quindi catenella salto un punto punto basso catenella salto un punto nel successivo punto basso catenella saltiamo un punto nel successivo facciamo il punto basso quindi fate questo per tutto il giro ci vediamo a fine giro per farvi vedere come si inizia siamo arrivati a fine giro abbiamo fatto la catenella saltiamo un punto e nell'ultima punto basso poi facciamo una catenella voltiamo il lavoro rientriamo nello stesso punto e facciamo il punto basso più una catenella e poi dove abbiamo fatto la catenella facciamo la maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa alla catenella quindi in questo modo catenella saltiamo la maglia bassa andiamo nella catenella successiva maglia bassa catenella saltiamo la maglia bassa andiamo nella catenella e maglia bassa quindi catenella archettino di una catenella maglia bassa quindi maglia bassa maglia bassa catenella 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 archettino catenella voltiamo il lavoro rientriamo alla base e facciamo la maglia bassa più la catenella e nell'archettino di una catenella facciamo la maglia bassa quindi catenella saltiamo la maglia bassa nell'archettino maglia bassa catenella saltiamo la maglia bassa archettino e maglia bassa e così via adesso io faccio qualche giro per farvi vedere poi come viene il lavoro viene molto carino come vedete poi in realtà è un punto molto molto carino e come ripeto questo è adatto per una copertina è adatto per dei cuscini per realizzare dei cuscini è adatto per dei tappetini è adatto per un gilet per una maglia per un cardigan l'importante che sia a pannelli e come ripeto non ha un multiplo ha praticamente dovete avviare semplicemente un numero di catenelle pari e poi fare questa alternanza e vi viene questo bellissimo disegnino io ci feci una maglia qualche anno fa e quindi oggi e mettendo a posto nell'armadio mi è venuta davanti ho detto perché no dare l'idea di questo punto così simpatico carino e molto facile da che possono realizzare tutte quindi spero di avervi dato un'idea e detto questo vi auguro una buona giornata e vi rimando un prossimo tutorial ciao